Non sono passate inosservate le parole di Alfredo Pedullà che ha parlato di Allegri, del futuro di Allegri e della situazione attuale della Juventus. Scopriamo insieme tutto qui su FCM Newsport. Come sempre vi ricordo che affermazioni come questa ma notizie come queste sulla Juventus in generale trovate su OneFootball. Qui sotto in descrizione vi lascio il link diretto per poter scaricare in maniera del tutto gratuita quest'app, c'è il link qui sotto, vi basterà cliccare su questo link e in automatico avrete gratuitamente la migliore app CG Colossone sul mondo del calcio. Gratuita e personalizzabile, quindi non perdete questa occasione. E allora, è una stagione quella di Allegri assolutamente fallimentare, una stagione che francamente è un progetto, quello dei due anni di Allegri che francamente non si può che definire fallimentare. Sulla situazione legata alla Juventus e sulle parole di Allegri che nel post partita hanno fatto tanto parlare di sé, ha parlato Alfredo Pedullà. Ormai l'abbiamo capito, Pedullà e Allegri non sono esattamente migliori amici. Cioè Pedullà non ha lo stesso rapporto con Allegri che ha un sabatini per intenderci, non sono esattamente amici di caffè, ecco, da questo punto di vista. Anzi, è andato giù pesante. È andato a sottolineare soprattutto le frasi, la frase in particolar modo di Allegri nel post partita in cui dice se volevo vincere andando sul sicuro, di certo non andava la Juventus ma andava in altre due squadre. Le due squadre in questione erano Inter e Real Madrid che, come testimoniato dall'amico Sabatini, evidentemente erano pronte a frire un contratto ad Allegri che però lo ha rifiutato perché aveva dato già la parola alla Juventus. Ecco, leggiamo cosa ha detto Pedullà. Dice, la famiglia ha detto no a queste squadre per andare dalla famiglia, la famiglia Juve, sì, la famiglia però ha 9 milioni. Questa sì che è una bella famiglia. Quello che dice sul fatto che l'Eventus non per forza doveva vincere è una cosa gravissima. Ad un certo punto dovrebbe dire, mi prendo la responsabilità per questi due anni perché questa è una totale mancanza di rispetto per il mondo Juve e per i tifosi della Juventus. Anche in questo caso Pedullà non fa troppi giri di parole con la Juventus, con Allegri, e non fa esattamente quello che fanno in molti, cioè camuffare certi errori della dirigenza Juventus. Ma andiamo un attimo ad analizzare le parole di Massimino Allegri perché lui ha detto che, fermiamoci all'Italia, lui ha detto che se voleva vincere facile, sicuro, doveva andare altrove. E quindi all'Inter, qual era l'altra squadra in Italia che ti poteva consentire di vincere in maniera facile? Era l'Inter. Un Inter che però, se andiamo a vedere i numeri e non le parole, quello a cui fa sempre riferimento lui, cioè vi ricordate? Quando lui dice che tutto è opinabile tranne i numeri, quelli non sono opinabili. Ecco, andiamo ai numeri allora. Nella stagione 2021-2022 il monte in gaggi, cioè gli stipendi complessivi dei giocatori della Rosa, della Juventus e quelli dell'Inter, non ne sono esattamente gli stessi. Perché il monte in gaggi e la Juventus nella stagione 2021-2022, quella dell'approdo di Allegri alla Juventus, è di 172 milioni. Cioè quell'anno la Juventus aveva un monte in gaggi di 172 milioni. L'Inter aveva di 130 milioni, il Napoli 110, il Milan 100 e sotto tutte le altre. Roma 93, Lazio 83, Atalanta 40. Quindi, se tu vai nella squadra dove hai, tra l'altro, tutti i poteri possibili e immaginabili, perché la dirigenza ti dà carta bianca su quello che puoi fare, puoi anche gestire il mercato. Quindi, da questo punto di vista, non soltanto è la squadra più ricca in Italia, ma anche quella con il monte in gaggi più alto e che ti dà la possibilità di scegliere addirittura i giocatori. Quindi, questa, per come la vedo io, è una sorta di comfort zone, non è una scelta di cuore, è un'altra roba. E tu, in una situazione del genere, come puoi dire, sapevo che arrivando alla Juventus non avrei vinto sicuro. Prima di tutto è la Juventus, seconda cosa, non mi sembra che quell'anno la rosa della Juventus era così malvaggia. E attenzione, perché c'è un altro aspetto. Quell'Inter là, quella dei 130 milioni di fatturato, dato quell'anno non vince lo Scudetto, quindi già è il primo errore. Secondo errore, quell'anno l'Inter perde dei pezzi importanti come Lukaku e come Hakimi. Quindi non era così scontato andare all'Inter e proseguire il percorso di Conte. Forse però, se fa quel ragionamento lì, è perché sa che Conte, esattamente come tanti anni fa, poteva dargli un assist importante. Cioè lasciare un gruppo già solito, costruito dalle macerie proprio come ha fatto Conte con la Juventus, poteva farlo nuovamente. Cioè lasciare la Juve di Conte, lasciata da Allegri, la Lì, 5 Scudetti, finale di Champions e quant'altro, voleva riprovare con l'Inter. Invece stavolta ha voluto cambiare. Il problema è che però quell'Inter là non ha vinto lo Scudetto e neanche la Juventus a 172 milioni. Quindi non era così scontato vincere con l'Inter, perché non c'è riuscito Simone Inzachi. L'anno dopo però, se dobbiamo ancora una volta calcolare quelli che sono i prezzi, quelli che sono i costi, quelli che sono il monte in gaggi, la Juventus nella stagione 2021-2023, cioè quella attuale, continua ad avere il fatturato più alto. Più basso dello scorso anno, ma ancora il più alto, perché a fronte ai 172 dello scorso anno, quest'anno il monte in gaggio è di 160 milioni di euro. L'Inter, giù di lì, perché è 133, quindi ci sono ancora 30 milioni di differenze di fatturato. Ma la cosa bella qual è che a vincere è il Napoli, che ha un fatturato di 71 milioni, cioè il Napoli ha calato e non di poco, grazie ai risparmi degli ingaggi di Ospina, di Fabian Ruiz, di Koulibaly, di Mertens, Indinsic e di altri che sono partiti, grazie a questo ha calato drasticamente il monte in gaggi ed ha vinto, grazie alla valorizzazione dei giocatori da parte di Spalletti. Ecco, Allegra è stato chiamato per questo, per valorizzare una rosa che già di per sé i numeri ti dicono che era già forte. Perché se no, non guadagnano tutti questi soldi, i vari, di Bala, Morata, Kuluseski e compagnia cantante, lo scorso anno, con i Delit, con i Chiellini, con i Bonucci, con i Quadrato e compagnia. Quest'anno possiamo fare i nomi di Vlaovic, poi che c'era Zaccaria che è arrivato lo scorso anno, possiamo fare il nome di Angel Di Maria, possiamo fare il nome di Federico Chiesa, ce ne sono un bel po' di giocatori di un certo livello, quindi non sei arrivato alla Juventus come una delle squadre che si doveva giocare il terzo o quarto posto, vuoi tornare alla Juventus per cercare di tornare a vincere lo scudetto e non hai fatto nulla di tutto ciò. Tra l'altro, un altro aspetto molto interessante da sottolineare, che volevo sottolinearvi, è quelle state lì in cui lui è arrivato alla Juventus, cioè l'estate del 2021, era la famosa estate, insomma ve la ricordate, dei pochi soldi in giro perché si usciva dal periodo Covid, in realtà eravamo ancora in quel periodo là, ma cosa fanno le società? Piuttosto che spendere, puntano sui allenatori e quindi l'alleatore per valorizzare le proprie rose. E quindi il Napoli prende Spalletti, l'Inter prende Inzaghi, la Roma prende Mourinho e la Juve prende il signor Massimiliano Allegri. Cosa succede? Succede che il Napoli arriva terzo il primo anno e il secondo anno vince lo scudetto, andando ai quarti di finale di Champions League. L'Inter di Inzaghi non vince lo scudetto, è vero, però vince due, è secondo in campionato, due Supercoppa, cioè o meglio, il primo anno arriva secondo in campionato, Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Il secondo anno, cioè quello attuale, finale di Champions, e ancora non sappiamo quando andrà a finire, Supercoppa e Coppa Italiana, e in questo momento è secondo in campionato. E poi andiamo a Mourinho, ha vinto una Conference League il primo anno e quest'anno in finale di Europa League. Andiamo a vedere cosa ha fatto Allegri, che è quello che ha l'ingaggio più alto di tutti. Nulla. Quarto posto lo scorso anno a 70 punti, quest'anno con la palizzazione è a 69 punti, quindi non ha neanche fatte meglio dello scorso anno, con la differenza però che il percorso europeo è tragico, anzi mi avrebbe da dire tragicomico. In ragione, valutando tutte queste situazioni che ci siamo detti, più le parole di Pedullà che è stato uno spunto per analizzare il tutto, allora vi dico come può pensare una società di continuare un percorso del genere con Max Allegri. Per come la vedo io è letteralmente impossibile, perché dati alla mano e anche occhi alla televisione vedendo quelle che sono le partite è una cosa assolutamente impensabile. Però voglio sapere che pensate voi, quindi qui sotto mi piacerebbe aprire un bel dibattito con voi in merito a quella che è questa situazione legata a Marsiliano Allegri.